E' Tommaso Negro, esce forte, la peta del Creazzo davanti a Merto, del team Pescantina in seconda posizione, poi ancora Raniero del team Creazzo per la terza posizione no, perché passa il pesnate con Mandatelli, ma c'è ancora il Creazzo, sono molto vicini, non si sa i primi quattro chi saranno, andiamo a vedere all'ingresso. E' la penultima linea, la quarta posizione del Creazzo, e allora al momento è fuori credo Mandatelli, perché il 3-13, no è Sirsi fuori.